Vi mostro il dente, però se siete facilmente suscettibili, ragazzi, anche perché c'ho un po' di sangue, non lo guardate. 3, 2, 1, tappate gli occhi! Olè! No, non è uno scherzo, all'interno di questa busta c'è un dente che mi hanno strappato praticamente un giorno fa. Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Qui è il vostro vichingo che vi parla, oggi vi voglio raccontare la mia esperienza fatta dal dentista, appunto, ieri. Ieri il dentista mi ha praticamente strappato la mola del giudizio, quindi mi ha tirato un dente. Un dente che da qualche settimana, anzi in realtà da qualche mese, mi dava dei problemi. E quindi l'operazione diciamo che è stata irreversibile, non potevo fare altrimenti. Oggi voglio fare questo video in compagnia di una bella tisana, quindi tisana time. Nel frattempo aspetta, devo disattivare le notifiche, altrimenti squillerà sempre. Ragazzi, una bella tisana, guardate ancora fuma, bella calda, aspetta, do un sorsino. Mi va di fare questa bella chiacchierata con voi e raccontarvi la mia esperienza. Ora, non so bene se farvi vedere questo dente oppure no, anche perché ragazzi, se siete impressionabili o facilmente suscettibili, quindi schippate il video, non lo guardate perché alcune scene potrebbero urtare la vostra sensibilità, specialmente se siete più piccoli. Ma ci tenevo comunque a fare questo video perché, non lo so, vi volevo condividere questa esperienza. Magari vi sarà capitato di andare dal dentista o comunque magari dovete ancora andare per la prima volta. E magari tramite queste mie parole potete farvi anche voi un'idea. Prima di iniziare però, ricordatevi di supportare questa serie lasciando un bel pollice in su, ragazzi. Mi raccomando, è molto importante. Spolliciate perché soltanto così riuscirò a comprendere se vi piacciono questi video e magari vi porterò altri episodi in cui vi racconto la mia vita in futuro. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video, così riuscirete a capire quando pubblicherò un nuovo video perché vi spunta la notifica. Se non attivate la campanella non vi spunterà mai questa notifica. E non saprete mai quando il vostro vichingo pubblica un nuovo video. Ok, partiamo da una base. I dentisti cosa sono? Di solito siamo abituati a vedere i dentisti come dei demoni con dei trapani in mano che fanno dei buchi enormi all'interno dei nostri denti, della nostra bocca. Oppure con delle pinze in cui vanno a strappare i nostri denti procurando dolore e quant'altro. In realtà, no! Smontatevi quest'idea che avete in mente. I dentisti ragazzi sono dei medici e come tutti i medici che siano ortopedici, chirurghi, sono degli angeli. I medici sono i nostri meccanici, coloro che ci aiutano nelle situazioni di emergenza. Perché vi sto dicendo questo? Perché magari ancora non avete avuto quell'approccio. Magari vi fa male il dente, però avete paura di andare dal dentista per il dolore che vi può causare. Partiamo da un presupposto. La prima volta che sono andato dal dentista avevo tipo 8 anni e ci sono andato per la mia prima carie, la prima di una lunga serie. Perché di base non capisco il perché io lavo i denti sempre, ma le carie ogni tanto spuntano. È normale, poi dipende anche dalla saliva, ci sono tanti fattori. Allora vi dico la verità, ai tempi un po' di dolore l'ho provato, ma c'è da considerare una cosa. Col passare del tempo le tecnologie, la medicina è andata avanti fortunatamente, quindi voi siete fortunati perché siete nati in un'epoca in cui veramente i mezzi sono molto efficienti. Ci sono delle tecnologie nuove. Ecco, per me è stato un po' diverso, ma torniamo indietro di almeno 100-200 anni. I nostri nonni, i nostri bis bis nonni, quando avevano un dolore al dente, come facevano a risolverlo? Poveri loro, poveri loro. Una volta, quando si aveva un dolore al dente, non essendo comunque un campo specializzato, non avendo queste tecnologie, non sapendo niente dei denti, ragazzi, l'unico modo per colmare il dolore era praticamente strappare il dente. Cioè tu praticamente avevi un dolore, una carica che magari oggi facciamo tipo in 10 minuti, una volta invece andavi a perdere il dente perché non si conosceva bene la materia. Quindi pensate a quanto siamo fortunati noi ad essere nati in quest'epoca. Diciamo anche che io ho avuto la fortuna di beccare dei medici che mi hanno sempre aiutato, diciamo, e quindi con il minor sforzo ho ottenuto il miglior risultato possibile. Aspettate su orsino che ho la gola secca. Pollice in su solo per la mia tazza, guardate qua, aspetta che ve la faccio vedere che è bella calda. Solo per pochi ragazzi, solo per pochi. Se riuscite a riconoscere la tazza, scrivetelo qui sotto in un commento, vi lascio un bel cuoricino. Sono sicuro che adesso i più curiosi vorranno vedere il dente, ma io sono indeciso se farlo vedere oppure no. Anche perché me lo sono conservato per ricordo. Ma partiamo dall'inizio, dal vero problema che, diciamo, ho cominciato a manifestare circa un anno fa con il mio dente del giudizio, che, praticamente per chi non lo sapesse, i denti del giudizio sono quelli che crescono per ultimi e che, diciamo, se allineati bene, possono essere dei denti aggiuntivi. Quindi diciamo che uno ha la possibilità di avere altri quattro denti in più, anche in tarda età. Io, con il primo dente del giudizio, sono stato un po' sfortunato perché il mio dente era praticamente messo tipo di traverso e stava spingendo gli altri denti, cioè quelli stavano tipo tranquilli, e lui andava a disturbare e importunare. Per evitare il peggio, quindi evitare magari che questo dente potesse bucare l'altro dente che c'era tipo a tiro, ho dovuto staccarlo e quindi questo qui è il mio primo dente. Questo ve lo faccio vedere tranquillamente, guardate che strano, ragazzi. È un dente ancora piccolo, tra l'altro, in fase di sviluppo. Abbiamo preferito toglierlo così da togliere ogni tipo di problema. Per questo qui, invece, la questione è stata diversa. Questo è il secondo dente, è ancora pieno di sangue, ragazzi, perché non è stato pulito, l'ho lasciato così integro, per ricordarmi il momento. Sicuramente non me lo sono fatto dare per fare una collana, anche perché sarebbe un po' macabro e anche inquietante avere una collana fatta di denti veri. Quest'altro dente del giudizio, invece, aveva tutta una situazione differente. In poche parole, era praticamente tutto fuori, soltanto che non era messo bene, non era allineato insieme agli altri denti e non aveva una base sotto, perché il dente del giudizio di sotto non è ancora spuntato. E questo dente, essendo messo male, non aveva, diciamo, il massimo della funzionalità, non riuscivo nemmeno a pulirlo bene grazie al filo interdentale, ogni volta rompevo sempre il filo, non riuscivo a spazzolare bene, motivo per cui abbiamo deciso, insieme al mio dentista, di toglierlo e di togliere anche un eventuale problema. L'intervento è stato abbastanza semplice, diciamo che in 10 minuti, un quarto d'ora, grazie a una punturina di anestesia, l'anestesia che ti va ad addormentare questa zona qui, quindi diciamo che ieri stavo un po' gonfio, però non ho sentito niente. Lui ha strappato il dente, non me ne sono accorto, tranne quando poi l'anestesia nel pomeriggio andava a finire e di conseguenza un po' di dolore c'era. Però ragazzi, credetemi, è stata una cosa di un pomeriggio, poi mi è passato tutto, cioè oggi già riesco a parlare, mangio tranquillamente, anche se comunque evito, mangio sempre da questo lato e non da quello. Quello che vi voglio far capire attraverso questo video è che non dovete assolutamente avere paura dei dentisti, anzi, dovete ringraziarli. Anche perché ragazzi, i dentisti, specialmente se poi nasce anche un'amicizia, sono un po' come dei parenti, dei parenti che ci saranno sempre nel momento del bisogno. Se avete un problema a un dente, sicuramente non passerà, non è che tipo spazzolate il dente e passa. Se il dente vi fa male, dovete per forza andare da uno specialista e lui vi aiuterà. Io mi sono sempre trovato bene, speriamo di andarci il meno possibile, perché non è che mi auguro di vederli sempre o quantomeno non in forma ufficiale. Magari incontriamoci per un caffè, ma non incontriamoci sempre allo studio. Sorsino. Ok, ma alla fine dei conti, questo dente lo devo far vedere sì o no? Perché magari alcuni di voi non stanno più nella pelle. Allora, facciamo così. Adesso al mio 3 vi mostro il dente. Però, se siete facilmente suscettibili ragazzi, anche perché c'è un po' di sangue, non lo guardate. Io personalmente non provo niente, cioè non mi fa nessun effetto. Perché alla fine per me è tipo un dadino. Però capisco che alcuni di voi potrebbero impressionarsi. Quindi, mamme, mettete i paraocchi ai vostri figli oppure schippate il video. E ragazzi, ci vediamo in un video più allegro. 3, 2, 1... Tappate gli occhi! Eccolo qui ragazzi! Poco poco, basta, basta, basta. Perché potrebbe essere troppo. Come dicevo prima ragazzi, a me non fa né caldo né freddo. Era un dente che andava tolto perché mi dava veramente fastidio. Ripeto, non so perché sto facendo questo video. L'unica spiegazione che mi do è quella di sensibilizzare un po' tutti voi che magari avete paura di andare dal dentista. Ragazzi, credetemi. Se i vostri genitori ritengono opportuno portarvi dal dentista, fatelo senza storie. Perché veramente ragazzi, i dentisti sono degli angeli. Sicuramente non sono lì per farci del male, ma sono lì soltanto per aiutarci a risolvere il problema. Poi ragazzi, ho tipo un'attenzione particolare nei confronti dei miei denti. Ci tengo tantissimo. Li lavo sempre, quindi mi raccomando spazzolate i denti nel modo corretto. Il modo corretto, ecco. Non è questo tipo... Così. I denti vanno spazzolati da sopra verso sotto, nel caso appunto dei denti sopra. E da sotto verso sopra, nel caso di quelli sotto. Quindi dovete fare tipo... Così, tipo un movimento così. Come ve lo faccio vedere? Vedete che il vostro vichingo vi spiega pure le cose? I denti sotto, ok? Bisogna fare così. Partire dalla gengiva e salire, quindi a spazzolare e a buttare fuori eventuali residui di cibo. Sicuramente alcuni di voi avranno i dentini da latte. Ma mi raccomando, quando avrete i denti quelli definitivi, guardateli bene, perché ragazzi, i denti crescono una volta sola. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è prevenire ogni tipo di male. Mi raccomando, lavatevi i denti, lavateli spesso. Che dire, vi ho raccontato questa mia esperienza davanti a una bella tassa di tisana. La tassa di Harry Potter e mappa del malandrino che guardate. Man mano perde il calore comincia a sbiadire. Tipo fatto il misfatto. Qui ci sono i miei due denti. Speriamo che siano gli ultimi denti a saltare fuori da questa bocca. A questo punto del video è doveroso fare dei ringraziamenti. Ringrazio lo studio in cui sono paziente, grazie a tutti i medici, grazie al mio dentista, grazie anche al direttore che mi accoglie sempre con grande gioia. E grazie anche a tutti voi che mi avete ascoltato. Magari se volete chiedermi qualcosa fatelo qui sotto in un commento. Mi è piaciuto veramente fare quattro chiacchiere insieme a voi. Anzi mi sa che devo fare tipo una serie incentrata sulle chiacchierate. La devo chiamare tipo, non lo so, tisana time. Oppure quattro chiacchiere col vichingo. Insomma dovete trovare anche un nome a questa serie. Inoltre chiedetemi pure tutto quello che volete e magari raccontatemi una vostra esperienza che avete avuto dal dentista. Perché vi sarà capitato sicuramente di avere un dolorino. Eh lo so. Scrivete tutto in un commento. Vi leggo sicuro. Vi lascio anche un cuoricino. Ricordatevi sempre di seguirmi anche sugli altri social. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao! Noi ci rivediamo a tutti.